Allora, sempre con il nostro segretario dello SPCGL stiamo analizzando quota 100, passiamo anche all'opzione donna, dove invece la penalizzazione esiste, no? E anche di non poco conto, per cui conviene o a chi è messo malissimo o a chi ha una bella bella pensione. Allora, intanto quota 100 abbiamo detto che riguarda soprattutto uomini di un certo tipo di lavoro, come dire, pubblico impiego o comunque un lavoro di grande industria, media industria, dove si è lavorato in modo continuativo e non c'è penalità. Cioè io vado in pensione con i 38 anni di contributi e mi calcolo la pensione con i miei 38 anni di contributi, con il sistema che ci sono andato. Certo. Ok, quindi contributivo, retributivo, eccetera, eccetera, gli ultimi anni, eccetera, eccetera. Differenza, e sapevamo che entro il 2021 si chiudeva la partita. Questo aprirà un altro problema, perché poi dal gennaio 2022 ci sono 5 anni di salto, cioè si passa da 62 anni a 67 anni. Se non interviene un qualcosa di intermedio. Lì stiamo discutendo col governo come togliere questo scalone che si è creato. Sull'opzione donna, ecco, nasce molto prima perché l'opzione donna nasce col ministro Maroni, con quella riforma lì. E cosa dice in sostanza l'opzione donna? Che possono andare le donne, possono fare quella scelta, ma se vanno calcolando tutta la pensione col contributivo, il che vuol dire che loro andranno in pensione con una pensione decurtata di quasi il 30%, che è una forte decurtazione. Ora, se pensiamo, anche qui, se pensiamo già al problema che hanno, come dire, che è il nostro sistema pensionistico, cioè che c'è una forte differenza tra le pensioni degli uomini e le pensioni delle donne, anche in questo caso nel creare, diciamo, questa sorta di finestra, come è stata per quota 100, anche per l'opzione donna c'è una differenza di genere, e cioè che le donne hanno una forte penalizzazione. Come mai? Come mai? Non si capisce. A me va bene tutto, ma non fatemi andare in pensione a 67 anni. Non voglio pensare di lavorare tutta la vita per mantenere... No, infatti, io vorrei rassicurare, non so, adesso questo lavoratore, lavoratrice, insomma, noi stiamo trattando con il governo proprio per evitare questa cosa. Cioè, noi diciamo che serve togliere le rigidità della legge Fornero. Assolutamente, noi dobbiamo pensare le nostre richieste e quali sono in sostanza. Quello, noi diciamo che bisogna andare in pensione con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età. Questo è un primo dato che noi diciamo. Noi diciamo, se una persona ha lavorato almeno 20 anni di contributi, o che ha raggiunto i 41 anni di contributi, deve poter andare in pensione. Questo è quello che noi stiamo trattando con questo governo. Chiaro, abbiamo mille difficoltà perché il Covid non ci aiuta, perché tutta questa questione, le trattative diventano difficoltose. Tanto è vero che avevamo una trattativa al mese scorso e saltata perché c'era qualcuno dello staff della ministra che era positiva. Adesso abbiamo l'incontro la settimana prossima, proprio su questo tipo di rivendicazione che stiamo avanzando. Certo, no, poi bisogna naturalmente lasciare la scelta. Abbiamo problemi più urgenti, perché ne abbiamo due che sono urgentissimi, e cioè opzione donna scade al 31-12 e quindi va rinnovato. Noi sappiamo che è una forte penalizzazione per le donne, però comunque permette un'uscita molto prima dei 67 anni che sono per le donne. Quindi magari uno fa due conti, ci sta, va bene. Esatto, perché ha problemi familiari, perché molto spesso, non è una scelta obbligata quella di opzione donna, parliamoci chiaro, perché si ha il genitore anziano da curare, perché si ha i figli da curare, perché si ha qualche persona non autosufficiente in casa, e quindi non è mai una scelta, perché il 30% è tanto. Ma infatti voi del sindacato lo rendete presente, questo fatto del 30%? Certo che lo teniamo presente. Perché il problema secondo me è anche in proiezione, sono delle valutazioni come dire lascia il lavoro per seguire i figli e lascia il lavoro. Uno fa la valutazione contestuale senza pensare che non verserà più contributi, che un domani ha 50 e passa anni quando i figli se ne sono resi autonomi, il classico delle donne, reinserisci tutto nel mondo del lavoro, che non ti vuole, non c'è spazio, per uno contingentemente dice non mi conviene, lascio. E la stessa cosa è questo, cioè il seguire la persona familiare, tu quel che vuoi, è vero che c'è un risparmio di spesa, eccetera, ma è vero anche che se uno esce prima con una pensione più bassa, non appena diventa lui stesso anziano, perché prima o poi ci arriva, come fa con la pensione mantenersi che figli magari avranno presa altre, cioè non è che si può basare su questo sistema familiaristico? Allora ecco, diciamo noi abbiamo impostato la trattativa su due livelli, la prima dicevo sulle questioni più urgenti, le azioni donne, poi abbiamo un problema dell'app social, anche qui che scade quest'anno, abbiamo delle persone... Ah, scade quest'anno anche l'app social? Abbiamo, sì perché va finanziata anno per anno col DPF, quindi anche qui noi abbiamo persone che hanno perso il lavoro e che quindi non sono, come dire, sono giovani tra virgolette per andare in pensione e sono vecchi per essere rimessi nel mercato del lavoro e quindi qui stiamo ragionando appunto su come con l'app social, come accompagnarli alla pensione e anche che tipo di figura inserire dentro l'app social, quindi questa è una partita che stiamo abbastanza avanti devo dire, perché la Ministra ha dato alcune rassicurazioni su questa partita. e questo è un tavolo. L'altro tavolo è quello di prospettive che appunto tratta proprio di tutti questi problemi, cioè andare in pensione con 41 anni di contributi, con una togliere tutti quei vincoli che la Fornero ha messo ai 20 anni di contributi, perché non bastano solo i 20 anni di contributi, ma bisogna anche avere un minimo di pensione, cioè se io non raggiungo una pensione di almeno 2,8 volte non vado in pensione. Quindi togliere tutti questi vincoli noi diciamo, e l'altra questione è la pensione di garanzia. Cosa è la pensione di garanzia? Che non è la pensione di cittadinanza o questo, è appunto quel valorizzare i periodi di cura. Cioè io sono precario, ho un lavoro stagionale, quindi lavoro ad esempio nell'alberghiero, nel turismo, so che lì lavoro 8 mesi all'anno, 4 sono a casa, ma non sono a casa perché voglio essere io disoccupato o non cerco lavoro, perché oggettivamente sono a casa. Quindi quei periodi là secondo noi vanno valorizzati. Un conto è se io sono disoccupato perché non cerco lavoro e allora quella è una scelta e va trattata in modo diverso. Ma se io sono un lavoratore che dimostro che sto lavorando e che quindi quella situazione non è per mia scelta, ma è per dati oggettivi, noi diciamo, lì interviene la valorizzazione di quei contributi, la cura della famiglia, l'astogianalità, quei periodi di forte precarietà, noi diciamo, ecco creiamo la pensione di garanzia per cui facciamo un'operazione promozionale e non assistenziale. Ecco cos'è questa pensione di garanzia che andrebbe a rendere dignitoso anche, come dire, riconoscere degli aspetti che ci sono e anche a rendere dignitoso la pensione di una persona che un domani andrà in pensione. Questo è quello che noi ci poniamo come obiettivi per superare la Fornero. Allora andiamo con la slide sull'ape sociale e volevo prima leggere un messaggio che era arrivato, che non ho fatto tempo a vedere, anche se so che è stato messo in onda, vediamolo un attimo. Allora vorrei trovare i sindacati degli anni 70 che facevano tanto e ottenevano e ottenevano, ma ora vorrei vedere i fatti, grazie. Allora, intanto c'è da dire che i sindacati fanno ancora tanto. Non è vero che noi, come dire, magari i mass media ci danno meno attenzione, hanno meno attenzione ai nostri riguardi, però noi, se vediamo, siamo spesso in piazza, siamo spesso a fare, come dire, rivendicazioni, tutele. È cambiata la modalità, indubbiamente, ma perché è cambiato il mondo? Cioè una volta, se io facevo uno sciopero generale, fermavo l'intero paese. Oggi non è più così, perché con la mondializzazione io posso anche fermare il paese, ma intanto producono da un'altra parte e con gli ordini, come dire, comunque fanno girare le questioni. Quindi anche noi ci dobbiamo attrezzare in modo diverso. Ma lo facciamo e tuteliamo al meglio i lavoratori, i pensionati, le lavoratrici. Interrompo un attimo, ci deve essere una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. A lei e il suo ospite. Buongiorno signora, da dove chiama? Buongiorno, buongiorno. Ciao a Padova. Dica tutto. Allora, io purtroppo, come donna, sono stata molto, molto penalizzata. Allora, io mi sono separata dal mio marito, il mio figlio aveva otto anni, non avevo nessuno a cui lasciarlo, quindi praticamente ho voluto fare da madre e da padre e ho perso molti anni di contributi. e praticamente questo andrebbe messo in conto sulle pensioni, perché con quello che facciamo noi donne sole, con i nostri figli e lavorare, cioè sinceramente viene molto contatto, viene molto penalizzato sulla pensione. E poi una seconda cosa, io adesso lavoro in regola e faccio dieci ore di lavoro. Non ho potuto avere l'ammortizzatore sociale per le cose perché parte dalle undici ore in poi. Anche questa è un'altra penalizzazione. Adesso io mi sono mangiata tutte le malattie e le perie durante il Covid di marzo-acrile, io adesso se mi amalo devo farmi il tampone per forza, anche se ho un piccolo raffredore, stare a casa 15 giorni e non essere pagata. Questa è una cosa che è molto penalizzante per noi donne purtroppo. chiaro, infatti, hai fatto benissimo la signora. Certo. E vengo con 300 euro al mese e stai a casa 15 giorni, le bollette arrivano lo stesso. non c'è dubbio. Allora, grazie signora del suo intervento. La ringrazio, la ringrazio signora, la saluto. Aspetta un attimo, allora signora, siccome abbiamo la pubblicità che incombe, per darle una risposta completa, richiede un po' di minuti, interrompiamo per la pubblicità. Lei resti con noi, voi restate con noi, così dopo possiamo rispondere perché sennò abbiamo questa angoscia che parte la pubblicità. Tra poco. Grazie.